Musica Benvenuti a Mangea, il mondo di dinosauri! Ma scusate, mi stavo facendo prendere dall'entusiasmo mentre mi seguivo sullo schermo. Aprete bene gli occhi, alla vostra signora dovreste già incrociare il primo esemplare. Musica 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 Grazie a tutti. 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 Manca davvero poco. Dobbiamo solo attraversare i resti della vecchia gabbia costruita dai Roshai. È la via più rapida. E' la via più rapida risparmeremo tempo. Grazie.